Salve amici, con questo video volevo ringraziare tutti gli iscritti e ringraziare anche chi si affaccia per la prima volta sul canale Purtroppo ho avuto un intoppo lavorativo quindi avrò più tempo per dedicarmi alla Watchtower e anche ad altri scandali di altri gruppi religiosi e vi farò vedere poi alcuni spezzoni dell'inchiesta tenutasi in Inghilterra per abusi sessuali riguardante la Watchtower e volevo anche dimostrare a chi pensa che i testimoni di Geova sono perseguitati volevo personalmente dimostrare che non è questo il caso infatti stiamo assistendo a un vero fenomeno sociale dove molti membri religiosi stanno denunciando quello che hanno vissuto nelle proprie organizzazioni e basta fare una ricerca per scoprire che il fenomeno riguarda tutto il mondo religioso e adesso con molto piacere voglio promuovere questa bella iniziativa messa insieme da John Cedars e altri ex membri dei testimoni di Geova un bel video dove traspare molta gioia e seca un po' di grande quel momento fanno no e poi piccatevelo in testa non si viene al mondo tanto per godere ma soltanto perché un bene superiore ci ha creati apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita non chiedo mica un regno intero dico io sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vende più onore e perde mano e ora nel cuore me la più...